ok andiamo kind of power si no ci vorrà pochissimo ok ok let's wipe them out send a few legs do any better do 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 Ah, ok Pronto? Combatti Prendi Raiden Prendi Raiden Prendi Raiden Prendi Raiden È il momento di Drake Oh, domattina sì che si farà male È il momento di fare sul serio Prendi Raiden Prendi Raiden No, non si aspettavano Scordatelo Prendi Raiden Ratchet Come hai usato Ratchet 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 Prendi Raiden Prendi Raiden Seleziona il tuo livello Pronto? Pronto? Prendi Raiden Prendi Raiden Prendi Raiden Prendi Raiden Prendi Raiden dat Sì, mi sento il segno speciale, continuano ad abbastanza. Sì, mi sento il segno speciale, continuano ad abbastanza. Sì, mi sento il segno speciale, continuano ad abbastanza. Sì, mi sento il segno speciale, continuano ad abbastanza. Nello 2, Nello 1 Nello 1 L'ho spettata vero Preso Seleziona il tuo personaggio Ser Daniel non lo so usare quindi Una proposta davvero allettante Ora assaggerai la mia lira Coraggio Ser Daniel Pronto? Combatti! Ok No, 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 no Le sto prendendo Sbaglio o le sto prendendo? Sbaglio o le sto prendendo? Sbaglio o le sto prendendo? l'ultimo signore l'ultimo scordatelo l'abc 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 perfetto l'abc 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 Grazie.